Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella notte tra venerdì e sabato si è consumato un tenero momento intimo tra due concorrenti del grande fratello. Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono baciati sotto le coperte, ma le immagini non sono state trasmesse da Mediaset Extra. Tuttavia, ieri pomeriggio, Tommaso ha confessato tutto con timidezza durante una conversazione con Luca Calvani. Allo stesso modo, Maria Vittoria ha espresso il suo interesse per Tommaso parlando con Amanda Lecciso. I fan non hanno gradito la scelta di censurare il bacio tra i due concorrenti. Mentre l'attenzione era focalizzata sul quadrilatero amoroso tra Shaila, Lorenzo, Elena e Javier, Maria Vittoria e Tommaso hanno avuto il loro momento di intimità. Il bacio tra i due concorrenti non è stato trasmesso, ma è emerso successivamente grazie alle confessioni dei diretti interessati. Tommaso ha ammesso di aver baciato Maria Vittoria, mentre lei ha dichiarato di provare attrazione per lui. Le parole di Maria Vittoria sono state molto esplicite. C'è attrazione e interesse nei confronti di Tommaso, ma non è ancora amore. Tommaso, dal canto suo, ha ammesso di essere attratto da Maria Vittoria, ma di essere molto introverso. I due concorrenti sembrano voler prendere le cose con calma e lasciare che i sentimenti si sviluppino gradualmente. È evidente che tra Tommaso e Maria Vittoria sta nascendo qualcosa di speciale, ma solo il tempo dirà se questo si trasformerà in amore. All'interno della casa del grande fratello le emozioni sono sempre in fermento e non ci resta che aspettare per vedere.